Siamo qui, ovviamente con Stefano ormai il mio compagno di Sboosting, siamo qui per aprire un colletto box di Outlaws of Thunder Junction, una che sta rischiando di diventare una delle mie espansioni preferite di tutti i tempi, te lo giuro, la adoro, è bellissima, e questo ovviamente è un box che mi ha mandato Kagan Corner, il più bellissimo sponsor del canale, che vi ricordo ha una delle migliori buy list della storia dell'umanità, se non proprio del sistema solare, quindi le vostre carte che volete vendere, loro le prendono a prezzi boh, Come li descrivi? Boh, proprio boh Esatto, follia, incredibile, fuori di testa, e ovviamente potete comprare i prodotti non a sconto utilizzando il codice sconto delmo10 per metterlo voi, uno sconto del 10%, procedo all'apertura di questo bozzo Continuiamo a aprire Ah, ma... Ah, mazza, è così dire di fuori, eh? Questo è il momento più bello del mondo, te lo giuro, è proprio bello Ah, le senti? Yes Dov'è Mana Drain Texas Foil, secondo te? Nel mio Nel mio Nel tuo ano? Sì, sì, sì Nel tuo ano A casa mia Ah, ok, perfetto È proprio a casa mia vado ad aprire il primo ricordiamoci che ora non so perché hanno deciso di metterla alla rovescia quindi bisogna aprirle dal culo davvero? le collector perché guarda l'ho aperto così vedi sono già le comuni queste ma dai ci hanno reso la vita più semplice per fare così al contrario quindi fai le comuni per i pauperisti le apriamo anzi per i pauperisti c'è da dire c'è da dire che eccetto qualche qualche carta che potrebbe sembrare interessante non c'è niente queste sono il godo queste sono il vero godo niente per il pauper se non una buona ristampa di journey to nowhere e poco altro cosa? journey to nowhere viaggio verso il nulla in queste a volte c'è qualcosa di bello qui no ok ci siamo ah il token bello il token ovviamente ci siamo vado ad number one ah io devo scannerizzare gumball gumball profiting major è però sul pezzo sul pezzo eccolo sul pezzo eccoci qua ammazza però no devi togliere la toglia vai 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 easy no ok ok gumball profiting major e si mette qua poi vado si si eh no devi essere sul pezzo lo so fammi prendere un attimo di monalità vai devi essere sul pezzo ok ci sono aspetta perché me l'ha fatta rica va bene fatto 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 ma secondo me si fa prima a fallo dopo fatto ma secondo me si fa prima a fallo dopo vabbè secondo me ma non come facciamo dopo uno per uno transmutation font proviamo questo pacchetto magari ci riesci non è male c'è anche quella promo mitica full art heartless conscription che è il commander poi abbiamo una rara della breaking news void the end tutto bene e poi qui questo sarà lo slot bombe occhio boom fell no meh 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 fell the mighty si si lasciano tutte qui alla fine no me le passi mentre sbusti no lascia tutto qui si fa alla fine del box ma almeno lo puoi secondo pacco sbuccialo sbuccialo lo sbuccio iliana sto a posto c'andra no è così per il meh non esiste tu cambieresti l'iliana per una scelta no l'avrei aggiunta ah avrei fatto rara certo le gommu bello il brodo allora le gommuni sono tipo queste cinque esatto ormai l'ho imparato le comuni degli dei comuni e non comuni esatto poi ci sono ah no c'era un'altra ancora poi ci sono le breaking news vedete madonna sette poi ci sono l'isola foil eccola qua e dalla terra parte la breaking news terminal agni queste sono non comuni tutte per forza si queste due sono non comuni ora in salerare giorni di un hour comunque comune il tumblewag honorary tumblewag poi oh godo bello l'arcangelo delle tette è bello è bello è bello è una ristampa tattica queste sono boh non lo sapremo lo sapremo dopo e quelle commander vediamo infatti quando scannerizziamo esatto commander può essere tutto e niente commander può essere 30 euro come 10 centesimi però già che dice abbraccia lo sconosciuto è boh si è il token uguale grindstone molto bella tu sei una grindstone però non è foil non è niente attenzione e slot bomba slot bomba quindi si leva il token che è un food attenzione no è texture eh dai no 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 tranqui è normale crime and punishment bella però bella molto bella tutto ciò che ha un teschio è figo sì tipo gli umani tipo il mio tipo noi abbiamo un teschio se no sarebbe una testa tu sei un teschio moscia sgonfia tu sei un teschio molto bella effettivamente tu sei un punishment ma si va un'altra busta che c'ho da trovare manadrain texture foil firmato da richard cazzi quante volte voi vince con tre mie basta esatto anche basta no 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 stavolta c'è il quindi si è detto uno due tre quattro cinque sei e sette giusto sette via proprio scarrellatona esatto sono le kumauni poi qui c'è la terra ho imparato ho imparato ho imparato bravo bravo terra che finisce nel cubo terra foil che finisce nel cutlo write down nelle non comuni del breaking news non c'è niente forse c'è qualcosa a un eurino un po' cosa hypothesis devo stare attento a non far bella masco devo stare attento ad appoggiarmi al tavolo perché sennò crolla tutto attenzione oh godo questo è godo questo è generoso questo è buono l'under airfoil è generoso è veri godo del big score il big score sono tutte un po' più rare ah questo è l'inutile lei è proprio lei è l'inutile lei è orredi a 10 centesimi cioè è uscita adesso si 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 tower winder bello bello sembra un pipo ah questo si giocherà tipo ovunque è quello che cerca la command tower in command quindi questa semmo è una bella sbustata la command tower di fallout che la giocano tutti di fallout chiaramente attenzione l'altro va di slime è il terzo sempre bello si toglie il token è qui ma sentisse texture no se azzecchi la texture dal tatto sei un grande sono ma si sente tanto tanto sono rialzate non lo so non ho mai avuto il culo io no è una merda mi sa vabbè è una mitica full art foil quindi anche solo dal punto di vista della numerazione a qualcosa va l'art che ritrae yamco dopo aver incontrato il dottor gel l'art che ritrae pegle dopo che è costretto ad abbandonare la svizzera per tornare tra noi io l'ho fatta stupida faceva ridere grande pegle che tutti conoscono nessuno sa che pegle rimarrà troppa discriminazione per le comuni vero però fanno veramente schifo questo set le comuni non ci sono roba da paper purtroppo solo forse la scimmetta 1-2 per strike dal giocatore di rosso ti posso dire che secondo me nemmeno i deserti hanno ipato nessuno no no proprio le ristampe journey to nowhere e poca roba sì no eccoci la terra pronti pronti vai attenzione pegle è un grande è un fratello veramente un grande sicuramente non ci sta seguendo perché è una merda ma vabbè ah no vaffanculo era il contrario è la busta rigata eh allora niente la busta rigata c'era non comune terra non comune invece non comune jace eh no qui c'è jace no questo è il token allora facciamo così per non rischiare di toccare la texture lascio il token fino all'ultimo ma certo così è esatto non si spoiler ah no questo è bonny palo che letteralmente è un palo è la mucca della milca letteralmente è un palo il bello è che questa espansione ecco perché è il suo pronome ah tu la chiami la mucca milca sì c'è anche un aggettivo davanti che non posso dire ecco esatto vabbè un altro palo un altro palo male eh poi eh boh un altro palo no non lo sappiamo no queste sono bonus 10 centesimi e invece 28 euro bonus non lo sai lo vediamo dopo attenzione eh questo è già buono 5-6 euro purtroppo no è calata purtroppo è calata è calata perché è uscita surgical è un'utilitifica eh però li vogliamo bene eh rianimaldo sì carta super giocabile attenzione ovunque dove si può giocare attenzione è buono bello foil full art bella questa è veramente tanta roba questa è grande sbustata la mia carta la mia carta questa oggettivamente era la tua spoiler vero? grande carta questa è delmointerruptor secondo me insieme al piccione rosso la rara più interessante del set l'ho messa nella top 15 infatti rara più interessante del set insieme all'altro piccione eh no è l'altro piccione per me la carta il piccione è la miglior carta del set ad oggi sì sì ha battuto anche jace ma byna 94 è d'accordo? ma non lo so se byna 94 è d'accordo ma sicuramente è d'accordo lui ci monto ok va bene allora sì 4 5 6 7 facciamo vedere le comuni favoriste si toccano al pipo bravi allora così più che sufficiente il tempo che gli hai dato per toccare esatto vai savage smash allora questo frame è veramente bello live guarda quanto sono stampate bene la qualità della stampa c'è un motivo perché i collector vengono stampati in giappone esatto grandi amici del belgio oh mazda bello questo ma carriato il pre-release purtroppo è una carta inutile incostruito ma non è detto però è una carta caga draghi tutto ciò che caga roba gratis draghis non si sa mai non si sa mai in standard alchemy magari il suo lo fa più del pine in pine non ci va no però in standard potrebbe vabbè però standard allora riku ci sono persone che ci vogliono fare il commander quindi occhio le carte ci speriamo io quando i commanderisti dicono eh ma te sempre allerta perché il commander comanda in campana hai detto commander esatto quando i commanderisti dicano una carta potrebbe guarda terror of the peaks è andata 40 euro i prezzi di magic sono comandati da un gioco che non è magic grande Yuma e questo è un commander il commander bella ma è Tony Stark ah ma è quella che ha il green baby di Jojo parte 6 ma è maffi è maffi è maffi è maffi Yuma è maffi molto bella l'artwork è maffi che è di pianella come dicevano in chat sì sì ma ora qui c'è Fel de Mighty un'altra Fel de Mafi mi sta andando benissimo questa la vinci te ecco l'altra volta per 20 centesimi infatti a cool a cool l'inutile a culo bello però molto bello all'artwork Stefano eccoti oggettivamente non posso negarlo ti somiglia parca puttana non posso negarlo Liliana io che faccio la dieta vegana sono è vero è oggettivamente vero oh ti somiglia è oggettivamente vero non posso farci niente non lo tengo per ricordo vabbè Stefano uguale sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì mercenario oh l'orso bravo cosa? l'orso fortissimo illimited montagna attenzione Stefano oggi a me mi umilia è vero anche questo questo è il repulso attenzione prima godo mitica foil mitica foil è mitica foil vabbè un rip è mitica foil è sempre godo bello terra doppia fastland purtroppo colori un po' sbagliati però bella però in standard dove sta il godo è boh vabbè classico boh ah che nostalgia te lo ricordi? c'eri te? giocavi? standard? si si però alara alara la prima alara charles of alara ah no 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 questa è la prima alara no niente no ok bello questa era in standard era grixis arrivava a turno 7 aveva vinto proprio alara proprio nada rianimate foil dai 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 ma che poi è l'elmi killmaster a destra che vuoi? il cantante di motored ah è vero si guà le cazzo ah questo è bello il token più bello di magic si il token il token no è il buco di giungito questa è una piccola citazione per i veri esperti quello è il mio buco è fatto apposta per me saluto a tutti i fan di giungito farò finta di aver capito la citazione è una citazione di un racconto breve di giungito che narra di questa montagna che dopo un terremoto mostra dei buchi a forma di persone che sembrano avvanvere invece viene fuori che sono singolarmente uno per ogni persona niente giungito io non ci ho capito un cazzo è un horror è un horror ah ok lo vedrò però è molto bello è un racconto di un di un capitolo è un racconto breve ok quindi ci metterò ci riuscirò a mettere un mesetto a leggerlo comprati la raccolta di racconti brevi di giungito che sono il godo giungito è un genio è il re dell'horror giapponese quanto ha studiato? io? eh no no chiedevo la chat quanto è studiato giungito è è la mia vita flame jumper non commento godo bella questa è bella gold gold hydra full art quattro momie metro colitana questa è una bomba eh boh chissà magari è incredibile magari è una merda sand scout cercatore di sabbia caccato addosso eh quanto mi dispiace a me che ora che si può l'abbiamo chiestata è due anni che la volevamo l'abbiamo ora che finalmente arriva in storica timeless probabilmente non si giocherà perché ormai è obsoleta però bella forse inside risultai attenzione porco 2 eh sì eh sì questa è una gambella forco 2 questa spianta sleeve foil sì questa è una gambella spustata vaffanculo stai andando di merda vaffanculo posso dire vaffanculo eh no ve lo puoi dire rimontone porca puttana prismatic vista oh ah porca puttana ottimo poi metti le perfect al contrario ma non fa niente lasciami stare ok così tanto prismatic vista eh normale un 25 ci sta foil sarà 32-33 buoni comodi godiamo agevoli godiamo beh data per ora siamo appena appena adesso no abbiamo questa era la metà scusate il mono red più forte d'italia è già tre volte che lo scrivono comunque sono un po' stupidi sei tu mambo a quanto pare ma mi stai dicendo che tu e a pauper sei più forte di piegonti no a giocare il mono red si ok 100-100 ma mi stai dicendo che tu a magic sei più forte di piegonti no zero volevo un po' di flame zero no ho fatto solo una volta contro piegonti ho preso anche il big il big quindi ma mi stai dicendo che mi hai detto in privato di avere il cazzo più grosso di piemonti ma io sto cercando di non dire cose cosa va bene va bene flame gli attaccia le scarpe la chat oh è riet l'inutile questa è veramente una delle rare più inutili del set purtroppo è riet sai che sono ah ecco lezioni di abruzzese tu dici è riet vuol dire è congiunzione riet oppure mo riet adesso riet significa che sto per vomitare la vista è foil si è riet 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 è vomitare oh bello la nuova memory jar che non è una memory jar però qualcuno sta dicendo che forse è rompibile vedremo vedremo eccolo è proprio lui il bello è che noi stiamo snobbando queste carte perché non lo sappiamo magari ho passato roba da 20 euro però ma noi siamo ricchi io ce ne prego ho fatto il play set di drama and punishment oh oh va bene che palle godo e due e due e la metti al contrario che nervoso la metti di succhiere il cazzo no che nervoso dov'è quell'altro dov'è quell'altro dov'è quell'altro dov'è il mio bimbo è ripartito di merda è ripartito di merda fa un culo che cazzo di culo ah ah è bello è bello guarda anche guarda anche vestato guarda la foilatura singola guarda madonna non mi do cane madonna guarda comunque le perfect si mettono dall'alto verso il basso perché poi le sleeve normali si mettono dal basso ma tanto queste queste perfect non sono per metterle poi in una sleeve sono per darle a lui perché non si rovinino fine comunque si che conservano a bislivarle stavo spiegando tecnicamente lo so che le sto mettendo alla rovescia per far prima e non è per triggerarmi è giusto per dargli qualcosa è giusto per metterci qualcosa intorno e non ci vada la saliva e la sperma quelli laterali sono tremende problems tremende rovinano tutto perché? hai più lato esposto ah è vero oh murder attenzione ok godo bello questo bellissimo ce li va anche qui mi sa no non sta altissimo è l'altro artwork che ho trovato io ve la faccio vedere non c'entra per la sfida semplicemente ce l'ho non è altissimo ma è bello questa sta tanto perché è tipo la carta più bella della storia di magic questa la vuole la vuole la gente perché è bella oggettivamente è bella quella non credo questa fu 5-6 euro tipo quella normale però è bella questa è proprio bella semplicemente bella a vedersi raramente raramente il valore della carta è in base alla bellezza ma in questo caso sì perché perché questo pare che da ora diventerà la nuova mascotte cioè diventerà il pikachu di magic cioè è l'emblema di magic d'ora in poi loot sì che poi rigged perché? ah no no niente questo cazzate frail braza bella questa è una buona carta secondo me in realtà tu sei il worst tu sei una buona carta di magic è D fortissima è l'ex è Jasmine è l'ex dettaglio ferro ok ma che cazzo non è mia amica ok eh beh elettrodominance che serve solo a giocare i rinoceronti di seconda in timeless vabbè attenzione gira gira ehm vabbè ho hai sbustato due bombe un'esperienza brr 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 hu frotti il cazzo brr quanto piangi ma due bombe quanto piange piange eh piange sono invincibile non possono essere qualificate vai gira eccolo beh è l'incantesimo lo sai che pure io pensavo fosse una bella carta invece pare che è stata accolta malissimo però magari è una vedremo questa è standard la meccanica sprie è proprio forte in generale come meccanica è molto forte questa è proprio forte si si è spaventato pure dall'arte io sono troppo curioso di vedere dopo i prezzi delle commander ah il soffocone si belli grande carta in standard è stata niente palo sto sudando ho fatto 80 euro due carte però vabbè ho la maglietta che fa vedere i pezzi quindi perché un loot è la chiave di tutto e lo vogliamo sapere anche noi magari è solo un così è il segreto degli omen infatti lo vedrete dalla lore ragazzi tra l'altro devo recuperare pure l'ultimo episodio della lore sarà anche il caso non hai sentito non ho sentito l'unico non hai sentito Avengers Assemble non ho sentito l'unico con tutte le persone che conosco sei pazzo incredibile sono proprio un amico di merda si hai ragione merda di nulla si la chiave dell'examen è boh però è bella oddio flash file esina una spell quando attacchi la puoi giocare è il commander a 5 è poco lo fanno di primo lo sai che io quando l'ho sbustato oggi ho detto che ficata non sta più niente ma perché ma perché è bello chi se ne frega è bello ma si giocava sto corso ma si gioca ancora però giochi questo perché è più bello di Modern Rise bello no godo 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 12 ce l'ho già è il secondo che trovo è 12 non so perché ma è a 12 probabilmente anche qui i commanderisti me lo spiegheranno va bene è una cancarta costa 2 fa un sacco di roba questa versione qui sta a 12 12 e 30 bello è strabello allora ve lo rifaccio vedere senza slive perché questo frame non rende dalla cam probabilmente ma è stupendo stu cioè guardate la foilatura delle pieghe della carta che dal vivo sembra proprio che ci sia l'ombra strabello ho già suonato al Jason è Dennis Medri l'artista siamo un personaggio cowboy beat signori ultima busta per me speriamo brutta smettila ovviamente ringraziamo come speriamo brutta anzi ringraziamo Cargain Corner che mi ha mandato questo box sponsor del canale da tempo in memore codice sconto del modiaci vendete le carte alla loro bylist però ti dovrebbero mandare i box e non il culo è come sempre il culo è mio il box è loro ho capito ovvio che te lo gufo bello il culo oh 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 bella 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 mi serviva quarto per in realtà no non sta a niente però mi serviva vabbè io te la metto lì perché così te la tieni godo bella carta questa questa è una bella carta Jason introvabile però non sono riuscito a metterlo nella top 15 già che piano siamo è il terzo piano della guglia del duomo di Milano perché in fatto sono poche scale sì no perché poi c'è lo scensore altre tre scale fino alla madonnina sì oddio cactus boh chi lo sa magari cactus buono porca puttana buono è una delle migliori che puoi trovare questa è tanta roba come regular questo è un bel finale manca una ancora manca una bella attenzione l'ultima vabbè poteva essere il contrario oggettivamente uuh signori vi ripeto questo box è stato offerto scusami gran bella sbustata overall questa è una bella bombettina hai fatto due tre pacchetti notevoli notevoli signori comprate a car game corner vendete a car game corner e noi ci vediamo live ovviamente date un bacino a Stefano ciao stelle grazie a tutti